Oroscopo del giorno. Mercoledì, 6 dicembre 2023. Ariete. Amore. Questo potrebbe essere un mercoledì di dicembre davvero ricco di amore, e anche chi è single potrebbe vivere un giorno magico. Potrebbe essere l'inizio di una nuova storia, che poterà a nuove emozioni. Lavoro. Presto potrebbero arrivare delle nuove proposte molto incoraggianti per il vostro lavoro. Toro. Amore. Sia le coppie che i single potrebbero essere un po' in crisi. I rapporti infatti risulteranno essere stressanti, e poco sereni. Lo stesso varrà per quelli familiari, o di amicizia. Lavoro. Quanti pensieri, e quanta confusione che avete, con tutti i vostri impegni lavorativi. Gemelli. Amore. La passione potrebbe venire meno oggi. Purtroppo non sarà un giorno troppo fortunato in termini di rapporti e di emozioni. Dovrete fare la giusta attenzione in questo senso. Lavoro. Ostacoli e poca voglia di impegnarsi. Potrebbero caratterizzare questa nuova giornata del mese in corso. Cancro. Amore. Se vi siete resi conto di avere al vostro fianco la persona giusta per voi, deciderete di sposarla, di andare a convivere, o di ampiare la vostra famiglia. Momento di decisioni da dover prendere. Lavoro. Marte e Giove saranno dalla vostra. Sarà un mercoledì ottimale per i vostri compiti e progetti di lavoro. Leone. Amore. Attenzione a chi avrà ancora dei problemi da dover risolvere in coppia. L'equilibrio nelle relazioni potrebbe venire a mancare. Lavoro. Potrebbero esserci alcuni intoppi, sia con i vostri colleghi, e sia sul fronte economico. Vergine. Amore. Questa sarà una giornata tranquilla, anche se le emozioni più belle arriveranno solo durante il periodo delle feste. Intanto godetevi quello che verrà, insieme a chi avete al vostro fianco. Lavoro. Un mercoledì in cui potrebbero esserci delle discussioni animate con i propri collaboratori. Bilancia. Amore. Dopo una dovuta riflessione, potreste prendere una decisione importante che riguarda l'amore, e il vostro rapporto in corso. O magari uno che vorreste intraprendere. Lavoro. Non avrete troppa pazienza sul posto di lavoro, e questo non sarà un aspetto per nulla positivo. Potreste avere delle conseguenze tutt'altro che buone. Scorpione. Amore. Un rapporto affettivo potrebbe prendere il sopravvento, diventare sempre più importante, anche inaspettatamente. Godetevi le emozioni che vi doneranno le stelle, e la persona a voi vicina. Lavoro. Molto bene al lavoro, dove avrete sia le energie giuste, che le occasioni fortunate. Sagittario. Amore. Dovrete dire addio ai tanti pensieri, che non fanno vivere la vostra storia d'amore come invece dovreste. E così che potrete godervi le emozioni a pieno, anche quelle nuove nel caso dei single. Lavoro. Un discorso molto simile dovrà essere fatto pure sul posto di lavoro. L'equilibrio e la stabilità saranno fondamentali. Capricorno. Amore. Per voi sarà fondamentale che fili tutto liscio nei rapporti, e soprattutto con le persone a cui tenete davvero. Potrete regalare delle belle emozioni a chi vi è accanto. Lavoro. Un mercoledì in cui vi sentirete abbastanza positivi. Per questo motivo, sarà semplice riuscire ad ottenere delle buone nuove. Acquario. Amore. Fidatevi della vostra dolce metà, e godetevi questa giornata insieme a lei o lui. Le emozioni non mancheranno, e saranno tutte da vivere. Lavoro. Arriveranno delle gratificazioni lavorative. Ne potrete gioire anche con chi vi sta vicino. Pesci. Amore. Un mercoledì tranquillo per l'amore. Le stelle vi permetteranno di contare a pieno sul sostegno, e sul sentimento del vostro partner. Ma anche per i single non sarà un giorno per niente male. Lavoro. Potrete approfittare di questa nuova giornata del mese, organizzare le questioni lavorative che riguardano anche il prossimo periodo professionale. Grazie.